Mister Favarin, commentare una sconfitta è sempre dura, però devo dire la verità, insomma il Trastevere ha giocato una grande partita e mi è piaciuto, almeno dal mio modo di vedere, il finale del Folgab, perché ha provato di tutta, ha messo in campo tutte le punte che aveva, più di Erna. A un certo punto era un attacco atomico e in una mischia ci sono stati tre tiri in porta, clamorose, anche una parata del portiere. Sì, diciamo che è una partita difficile contro una squadra che meritatamente è prima in classifica, una squadra solida, una squadra molto pratica, ha ottenuto un risultato voluto, nel senso che anche dal punto di vista agonistico, dal punto di vista della gestione della partita hanno saputo indirizzare anche l'arbitro dalla parte loro, perché ha trovato sempre il modo di spezzarci il gioco, le ripartenze, però insomma c'è da dire che abbiamo fatto tutto quello che era possibile in questo momento per cercare di mettere in difficoltà una squadra come il Trastevere. Più di questo in questo momento non si può chiedere a questi ragazzi. Tra l'altro nell'undici iniziale due assenze pesantissime, Leonardo Bruni e Fabrizio Losicco, due giocatori insomma che impostano la manovra, che fanno ripartire il gioco, tutte e due fuori e anche questo un pochino avrà pesato. Fanno anche il gollo ogni tanto, quindi ancora di più si sente la loro mancanza, però insomma la squadra che è andata in campo ha fatto tutto quello che c'era da fare, insomma come dicevo prima, è chiaro averci avuto sia Fabrizio che Leonardo era importante, però purtroppo nel caso succede anche questo. Niente, dobbiamo ripartire domenica prossima e cercare di fare il risultato da un'altra parte. Ha detto qualcosa in particolare ai giocatori in questo conciliabolo di fine match? No, è chiaro che sono un po' abbattuti, dispiace non aver ottenuto un risultato positivo, come si diceva abbiamo messo tutto quello che avevamo dal punto di vista dell'impegno, della volontà, alla ricerca dell'episodio che ci poteva almeno far parigiare questa partita. Abbiamo preso un gol a fine primo tempo un po' rocambolesco e lì loro hanno costruito la partita.